TikTok cringe di Roblox che ti faranno schiattare dentro Fa fantastico Oh mio Dio, la musica Ok Sono già schiattato dentro, sono già morto dentro, fantastico Tempo record, era una spedra, neanche lo sapevo Qualcosa, qualcosa di fantastico Ok, vediamo Allora, credo che le musiche siano così tanto storpiate per evitare il copyright Che ha senso, va bene Ok Sì, certo Come no Oh ma seriamente la gente si crede Cioè io faccio roba simile sul mio TikTok, è vero, ok Ma io lo faccio per ironia Sì, questi qua ci credono proprio di essere fantastico Ok Quando lei è un'unione tra, caro ma sa anche come combattere Quindi fa tipo box Ci sono tante cose che non hanno senso Troppe cose Ok, sì Complimenti, hai messo un emote di ballo su Roblox per mobile E te stessa cosa E poi cambia l'avatar Classico Oh Cosa, ti cambia l'avatar Restituisci la carta di credito a tuo padre Restituisci la carta di credito, ok Perché quella roba costa non so chissà quanto Probabilmente Già solamente a stick face o roba del genere C'è qualcosa di nuovo? Sicuramente questi slender non si possono inventare nulla È uno slender, sì Ok Sì Noah Emir Ok Chris Se siete interessati a questi tizi Vi manca entrambi una gamba Non vorrei far presente questa cosa Io mi chiedo come vuole seriamente la gente spendere tanti soldi per un pezzettino così Ok Cioè È orrendo Non si riesce a vedere Vabbè Oppure anche per non avere la testa Cioè Quelli che non si mettono la testa Pensano di essere davvero così brutti che se la cavano Cioè perché te la dovresti cavare Ok Va bene Va bene È più vecchio di dieci anni Sì Io ho tipo il doppio Niente È finito così Ok 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 No Mi rifiuti di tradurre sta roba No Seriamente io mi rifiuto È stato fantastico Ma Quel cavolo che lo faccio Ve lo scarrate tutti quanti Wow Danumba slender Che vanno Chiamati i pompieri Ti stanno dando fuoco i capelli Quel cespuglio che ti stanno dando fuoco Dai pericoloso Vabbè Continua pure a ballare Ma se vai a fuoco non è colpa mia dopo però eh Io ho avvertito Aha 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 Ok I tizi che ballano Mi sapete proporre qualcosa di nuovo? Avete sempre le solite cose No scusate A quanto pare questi tizi Mi piace davvero tanto ballare I miei complimenti Sono posti un minimo bravi E' sempre lo stesso tizio Ma chiamate Non lo so Chiamate il papa per esorcizzarlo No seriamente Un diavolo c'è Quindi scusate Andiamo avanti con il prossimo Ok Fantastico Il canzone non copierei tata Sono qualcosa di orrendo Ma allo stesso tempo fantastico E come vai Dura bene Le dance Passiamo se Cielo mio Ah no seriamente Se voi non mi fate fare tanti like Qualcosa seriamente parlando Io perché lo dovrei portare Questa è sofferenza Nella mia anima Io sto soffrendo Non lo posso far vedere Ma io sto soffrendo Dovete aiutare voi Questo va di nuovo fuoco Ti ho detto di chiamare i pompieri prima Vabbè Lasciamo stare La maglietta Wow Ragazzi ha cambiato skin È una tecnica che nessuno conosce Mi raccomando Ok Ma si devono inventare qualcosa di nuovo È già la tipo La terza quarta volta Con sta canzone C'è un po' di novità Qualcosa Qualsiasi cosa A sto punto Lo vado a fare anch'io No Ok Ecco sto qua Già non ha la testa È noob White rabbit Ma di tanto carino Prima ti sei dovuto rovinare Oh questo è lo stesso di prima Ma almeno c'è le mutande Cioè almeno quello Almeno le mutande Almeno quello Seriamente Questo vuole fare il chitarrista Da grande Non è mai riuscito a farlo A quanto pare Ok Allora Se non si trasforma È anche simpatico Si è trasformato È un power ranger Signori I power ranger Ce li abbiamo noi Su Roblox I power ranger Ok C'è l'esercito Oh quello sinistro però si salva Ma perché io devo mettermi a dieta E provare seriamente Ad avere un po' di muscoli Quando basta cambiare la skin Su Roblox Per far credere alle persone Che tu seriamente sei così Ma perché Perché mi dovrei sforzare Ma a sto punto Lo faccio anch'io Cioè seriamente Ok Ancò Oh dai E basta Ci sarà qualcosa di strano Di no Com'è che se si disinstalla il gioco Scusate Oh qualcosa che non siano balletti strani Ok c'è un tizio Ho camicette nude No Ho tizi senza camicia Mi ero dimenticato di mettere quello tra parentesi Oh beh c'è di peggio almeno Questa è la meno peggio per il momento Ok You're mine Ma anche Scusate sta andando a fuoco Lo vedete palesemente E basta Perché uno si dovrebbe mettere una toro C'è in testa Le torce le faccio su minecraft Quando devo Illuminare a casa mia Vabbè Questo teoricamente c'è scritto Che mi dovrebbero far ridere Quindi per favore Fatemi ridermelo Ok si Questo è abbastanza strano Ma era molto simpatico Ok Cosa che Ok Ok Non accetta Ma quell'avatar è illegale Scusate Ma è legale sto avatar Stiamo scherzando No Aspetta Non è quello che tipo Avevano bannato alla fine Mi pare che l'avevano bannato Fatemelo sempre nei commenti Se l'avevano bannato Alla fine Mi pare che l'avevano bannato Mi pare che l'avevano bannato Ok 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 Questo è più simbatico Va a invaderle case altrui Ok Se è baggata Dentro Vabbè si Non è così tanto Cringy C'è molto di peggio Possiamo dire Questo è più simpatico E' più simpatico Questo no Non è bannata sta roba E non è il primo che vedo Cioè What? Questo è già il secondo Meglio cambiarlo del dubbio Allora skip school O stai a scuola Ok va a saltare la scuola Va bene Quale avventure Li capiteranno mai? Ha perso un diamante Oh mio dio You survived Ok Non dico niente 45k diamanti Con la commissione Da 45k Fa tagli occhi Di quella di sinistra Che mi inquietano Un attimo Una normale giornata a scuola Tyler Ok no School bus Lezioni di matematica Ok Ginnastica Ok Che sta succedendo? Non sto capendo C'è qualcosa Che non Ok Sta volando Con Non so qual è Ok Beh non è così male Dopotutto Ciao Amico mio l'hai fatta fuori Mi smr Sono molto meglio Quelli che prendono il tagliaerba Vicino il microfono E fanno gli smr Oppure con le bottiglie Le lattine E' molto più rilassante Secondo me No Iroblox story Sono così No con quella vocina E' così fastidioso Ah poi ho notato adesso una cosa Ma quel tizio E' un tipo cetriolo Poi non vorrei dire Incontro una copertina E trovo questo Cioè Papà Queste cose Secondo te Vanno seriamente bene Non mandare a quel paese Il piano A E tu cosa hai fatto Mi sono già stancato Ad avere questo gioco Dopo lo vado a disinstallare Immediatamente E chiudo tutto quanto Quando vedo una ragazza Andare verso il mio fidanzato Che paura No vabbè Incredibile ragazzi E meno male che rimuovo l'audio Perché? Io devo rimuovere alcune cose per forza Balla se sei omofobico Non sto ballando Non sto ballando Quindi Sono a posto Ehi ma quel vestito però ce l'ho anch'io Perché? 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 Perché questi sono bambini Cosa hanno fatto di male i genitori? Per favore Dove sono? Aiutateli Oh mio dio Ok no qua Stanno semplicemente cantando Almeno in modo orrendo Ammetto Ammetto che stanno cantando In modo orrendo Però almeno stanno cantando Perché questo ballo è così soddisfacente? Non è soddisfacente È cringe Sonic aiutami tu Sonic Col nonno Ok Ok Questo è simpatico Più che cringe è simpatico Così con il gesto Non sei il migliore Quello ho vinto tutto Ha vinto qualsiasi cosa Me ne vado via Lontano Il più lontano possibile Qualcuno lo aiuti Mi prego Quello sarei io più o meno Scappa Corri Bloccato Questo fa ridere Questo fa ridere Povero bacon Se vuoi rubare un fidanzato Basta che fai Come per i gatti Non credo che sia così Che funzioni Cioè non sono un gatto Mi piacciono i gatti Ma non sono un gatto Ti sta bruciando Con un lanciafiamme Te come fai a camminare Senza la gamba esattamente Cos'è attivazione hack Ok Va bene Cose strane Devono capitare per forza Ovviamente Signori su Roblox Ripeto Questi sono i motivi Per cui Roblox Non può essere mai Un bel gioco A parere mio ragazzi Questa è la mia opinione Cioè Finché non ci sbarazziamo Di certa gente Non ce la faremo mai Povero Tu povero cosa Non ho capito Ho sbagliato la traduzione Ha baciato il mio avatar Guarda Se fosse Smashing Pess Tu saresti sicuramente Pess E io e il tuo fidanzato Saremmo così Una bella coppia Non ho un fidanzato Oppure c'è qualcuno Che è il mio fidanzato Ma io non so di saperlo Di avere Fantastico Ripeto Ma sta roba Non è bannata Su TikTok Per favore Ma siamo seri Chi sei tu No seriamente Chi sei Ok ci parli tu Con questo Poi la ragazza Parla con Jake Mi pare che nello scorso video Però c'era una roba del genere Ma era la ragazza Letteralmente sta facendo la Roleplay di Roblox Di Royal High Credo che sia Che con Oh mio dio Questo si che è grigio Non è quello che avevamo visto prima Out edition Sono sponsor Hai una canottiera addosso Ma solamente vestito di grigio Ma fa schifo Cioè come fa la gente Per ci resisti a votare Almeno Almeno il mio stile A tu ti piacere i miei piedi Dove andare a prendere un sacchetto Oh cos'è La cugina dell'altro Quello di prima Ciao 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 Ciao